buongiorno stiamo considerando i salmi della ascesa a gerusalemme e il salmo 127 inizia in questa maniera se il signore non costruisce la casa invano si affaticano i costruttori se il signore non protegge la città invano vegliano le guardie invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate piano mangiate pane e tribolato egli da altrettanto quelli che ama mentre essi dormono questo salmo mette chiaramente in evidenza il beneficio che è dio a fare l'opera in contrasto con l'uomo che fa l'opera l'uomo qui vuole costruire una casa l'uomo qui vuole proteggere la città e per fare questo si sforza si sforza si affatica si alza di buon mattino si va a letto tardi mangia pane tribolato e questa è una descrizione di persone al tempo del salmista lui che ha preso del tempo per andare a gerusalemme e guardare e osservare e adorare al tempio mentre altri hanno invece voluto stare a casa e lavorare faticare e dire no non possiamo permetterci di andare al tempio perché è troppo lontano e troppo impegnativo bene dice lui il signore ha questa rivelazione fanno male perché non mettono me al primo posto fanno male perché cercano di fare tutto con lillo con i loro sforzi mentre tu che hai cercato il signore mentre tu che metti dio al primo posto allora dio ti dà dio da altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono ed è un invito alla pigrizia assolutamente no ma è un invito a mettere dio al primo posto nella nostra vita e nei nostri affari vorrei tornare indietro nel tempo qualche decennio fa quando facevo l'università e c'era soprattutto dopo la mia conversione ero deciso a studiare deciso a finire in tempo e cercavo l'aiuto del signore in questo e si poneva il problema che fare posso andare in chiesa quando dovrei studiare posso andare allo studio biblico quando dovrei studiare posso andare alla preghiera quando dovrei studiare io ho messo in pratica questo versetto il versetto 2 egli dà altrettanto a quelli che che ama mentre si dormono e posso dire non ho perso culto o riunione eppure ho studiato eppure sono uscito con il massimo dei voti e con la lode non per merito mio ma perché dio dà altrettanto a quelli che ama mentre si dormono cosa vuole il signore con questo salmo cosa sta dicendo al salmista che è venuto a gerusalemme per celebrare il signore gli sta dicendo mettimi al primo posto non fare passare giorno che tu non abbia reso la tua lode a me che tu non abbia pregato me che tu non abbia cercato la mia faccia che tu non abbia cercato di leggere la mia parola poi fai pure quello che devi fare studia lavora in casa fuori fai quello che devi fare quando tu torni a casa tua da gerusalemme non è che non devi lavorare o non devi vangare o arare o piantare o seminare devi fare tutto questo ma scoprirai che se tu metti al primo posto il signore tutto il resto sarà benedetto è ovvio che è difficile pensiamo alla legge del sabato era difficile non lavorare il sabato era difficile lasciare la terra libera per sette giorni per sette per un anno ogni sette ma era quella la benedizione quello che dimostra che hai fede in dio e nella tua vita oggi ricordati che se il signore non opera per te tu non combini niente ma se metti lui al primo posto se metti lui ogni cosa in lui allora elli ti darà altrettanto a quelli che ama mentre si dormono e Dio ti benedica